Salve a tutti ragazzi, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like SIGLA L'hai sbloccata Così non c'è ragazzi Vai Chris Capitano, le confermo che Ethan Winters è morto Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove Vi spiego tutto, avvia la condivisione Siamo stati molto avventati Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata Ma non l'abbiamo uccisa Che immaginava potesse fingersi morta Miranda poteva avere infettato Ethan Quindi ho portato lui e Rose con noi Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti Non vuole che Chris e Miranda L'ultima volta che ho contattato Ethan Ho sentito la voce di Miranda L'ha ammazzato E la pagherà Molto cara Porca puttana, quando finirà Di che parla? Della missione? Di tutto Da tre anni provo a chiudere questa storia E tre anni sono troppi Quindi? Quindi? La fermeremo, capo La squadra è pronta Ok, Chris Oh, allora Mi sembra di fare un'altra zona Invece Così la BSA-A è già qui Non hanno perso tempo Il piano cambia No, non c'è nessun cambiamento Eliminare Miranda Né salvare Rose Questa è la missione Ed è vietato fallire Buttiamoci nella mischia, gente Proprio come ai vecchi tempi Muoviamoci Va bene K-9 Scopri che ci fa qui la BSA-A Indaga, ok? Ok, ci penso io E' tanto che non combattiamo assieme, capitale Ah, che bella Quando è stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni Sono fuori forma Ma grazie a te Ora conosciamo il piano di Miranda Non ci potevo credere Che si fosse trasformata in mia Rendersi cinque colpi in testa Non è cosa da poco Mi dai prividi Ehi, Alfa Guardi qui La BSA Sta a me esagerata Cristo C'è un bel casino lì sotto Come raggiungiamo l'obiettivo? Innanzitutto sbarazziamoci di quella roba Conti su di me, capo Brighiamoci Attenzione alle armi biologiche ostili Ricevuto Contatto con un gruppo di armi biologiche ostili Sono più di quanto pensassero Attenzione Il percorso Avest è libero Ricevuto Avvistato veicolo BSA Due guardie Un gioco da ragazzi Non sottovalutarli Non sottovalutarli Non sottovalutarli che diavolo è quell'affare il muta mi cede per ovunque deve essere lì che si trova andiamo la muffa può rilasciare particelle in tette non toglietevi le maschere anche loro tenevano d'occhio mirando avranno pensato fossero ricevuto qui tundra capitano ha lasciato dei rifornimenti in una casa si serva pure ok 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 Sumber Ice, mi serve il sopposto! Lo vedo, cazzo, non c'erano ieri, non c'erano ieri! Non c'erano ieri, non c'erano ieri, non c'erano ieri! Non c'erano ieri, non c'erano ieri! Non c'erano ieri, non c'erano ieri, non c'erano ieri! 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 Non c'erano ieri! Non c'erano ieri, non c'erano ieri! Se mia madre fosse qui, penserebbe di essere finita all'inferno! Ho raggiunto la destinazione! Merda, è enorme! Va bene, Lobo, ti indico il bersaglio! Ricevuto, capo! Finca, grande! Ricarico, prendo tempo! C'è un gruppo che viene verso di lei! Non c'erano ieri! La muffa si esplode rapidamente Deve sentire che cosa che non stai guardando Ese è stato costato a comprare un pello Che è stato costato a comprare un peggami 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 Ricarica effettuale Dove è questo? Le armi biologiche stanno... ...e tutto il risultato. Altri cinque dalle montagne, lato oeste. Sono vicini, faccio io. Prendi questo! Bene. Il Megamicete deve essere qui sotto. Ah, va il culo, uai. Capitano, il Megamicete è sottoterra. Mi avvio. Capitano, il Megamicete è sottoterra. Mi avvio. C'è un modo per scendere. Io vado, voi restate dove siete. Capitano, ho confrontato la muffa del villaggio con un campione dei Baker. Beh, non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie E. Questa roba è nata qui. Scendi. Spendere. Grazie a tutti. Qui ce n'è uno sotto. Ho bisogno di supporto. Si trova sotto terra. Usa quella. Ok, sto arrivando. Tenga duro intanto. Sono qui subito. Bene. Te lo illumino con laser. Vai un attimo di tregua. Ricarico. Prendo tempo. Ok, capitano. Sono pronto. Quando vuoi. Ok, capitano. Ha funzionato. Aspetti un attimo. Sto ricaricando. Ricarico effettuato. Dove mi è installato? A fare un prossimo turno. Un attimo. Ricarico effettuato. Non passo. Non passo. Non passo. Non passo. Non passo. Sto ricarico effettuato. Non passo. Non passo. Ah Ricarico Arma biologica osile e limonata Vado avanti Sì Voi restate tutti in superficie Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Se Miranda si era sostituita a mia Lei dov'è? Immagino che si sia liberata di lei Non riesco a capire Come faceva Miranda a sapere di Rose? Ve l'avrà detto un uccellino ammuffito A questo penseremo dopo Concentratevi sul piano Trovato Ecco il negamicete Il negamicete Alfa a squadra Ho localizzato il negamicete Possiamo mettere fine a questo casino Non aspettavo altro L'esplosivo N2 è pronto È sufficiente per distruggere il villaggio Facciamo saltare in aria questo posto Prima eliminiamo Miranda Meglio non correre rischi Adesso vado Ricevuto In attesa Capitano Miranda avvistata nel luogo della cerimonia Mantenetevi a distanza Non muovetevi fino al nuovo ordine So che ormai è troppo tardi Ma abbiamo sbagliato Non dire tutto a Ethan Non c'era tempo Ma nessuno si aspettava che Miranda agisse così in fretta Lo so Ma avrebbe dovuto dirglielo Già Andiamo da Miranda Dove essere il laboratorio di Miranda Salvatore moreo Moreo La libertà non cazzo Basta Basta Cazzo 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 mercurio controlla l'elemento in pentale del muro, agli esseri umani che assorbe i poli devo rinnovare, devo qualsiasi abbia la energia, la legna la quale muro, la beve ho. Kahn Heerberg, come vedo è che ho accaduto anche l'elemente alta, io non male, vedendo l'organe elettrogeni singoli da quelli dell'aria, questi organi sono ammessi al sistema e poi lo vedo, allora la legna la mia, l'acqua è la luce, la legna la danca e questo non sfruttio, Quanto non mi offrono, la legna la regna è la legna, mi fa ne vado come un po' l'amore, questa legna la regna è la legna la regna, qui è l'arrivo, mi fa le regna la regna, è la legna della regna, è una legna è la legna, mi fa che la regna la regna da sorella, mi fa la legna, mi fa l'acqua, ma non si Soprattutto l'arrivo, è una legna, sfruttio quanto la regna lo spiace, si fa l'amore, si fa il palco. Ecco che usano per controllare le armi biologiche. E' migliori. Carai, ti scusami, ti scusami, ti scusami, ti scusami, ti scusami. di bene, non ti obiettivo, ma adesso inizio a fare il padre. E allora, il padre è più grave. playeri mi parlano di zere in giovani, che abbiamo già messo la mia schmerz del mare. Ma insieme a dire davvero il bacchetto. C'è per la mattina da guardare la mia madre. Non tutto nemmeno, e non gli amici. E' la domanda da scelta, nemmeno le tette. Se mi lascio andare da guardare lai, ho trovato la chiave, e non sapevo un'altra cosa, in Africa tendo a guardare a me e a me dì a me che mi riuscita a liberarla. Con il simbolo da lei, ma abbiamo parlato un po' più ieri. Spero che sono affettoso a Spencer. Aiuto, Spencer! Spencer? Qui? Non ci credo. non vado in fedex al sbagliare di portare la mia so posso portarti in vita? ah eh cosa serve mia figlia eh ma si che aveva la mia sopra no 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 non non E' P.C. E' V.C. E' V.C. Sì è P.C. E' V.C. Mani bene in vista Amberà esqui Alfa Dove si trova Miranda? Non so che stia facendo Ma è nel luogo della cerimonia Oh cazzo Sei davvero tu? Per fortuna stai bene mia Che ci fai qui? Mi hanno presa E mi hanno analizzata E ha detto Mia Mia Winters Proprio lei Com'è la situazione lì? C'è una guerriglia in corso Niente di che Non distraetevi Seguite il piano Vado al luogo della cerimonia Aspetta Non puoi lasciarmi qui Avevi fatto una promessa Hai detto che ci avresti protetti Abbiamo fatto quello che volevi Ci siamo persino trasferiti qui E a me andava bene Purché rimanessimo insieme Quindi ora dimmi Dov'è mio marito Chris? E dov'è mia figlia? Ethan Scusa Con lui ho fallito Però posso salvare Rose Vai Andiamo Questo posto non è sicuro In che senso hai fallito? È morto Mi spiace Mia Ma dobbiamo andare Dobbiamo distruggere il villaggio No Ti sbagli Ho provato a tenerlo nascosto ma Tu non puoi capire Quanto lui sia speciale Grazie a tutti